Autonomia differenziata, presentata in Consiglio Comunale a Isernia, una mozione da discutere nella prossima seduta dell'assise civica. A depositarla è stata la consigliera del Partito Democratico, Angela Perpetua. Obiettivo? Impegnare l'amministrazione a partecipare a ogni azione istituzionale mirata a contrastare la legge Calderoli. È l'esito della seduta di ieri a Palazzo San Francesco, che ha visto un acceso dibattito tra maggioranza e minoranza sulle conseguenze dell'autonomia differenziata, strenuamente contrarie al DDL l'amministrazione municipale. Riteniamo che questo disegno di legge vada ad aumentare semplicemente le disparità tra le regioni più ricche e quelle più povere, aumentando quindi l'inequità tra le regioni del nord e quelle del sud, impoverendo quindi territori come il nostro, come la nostra regione, che già soffre di forti carenze in ambiti strategici come quelli della sanità, dell'istruzione e delle infrastrutture. Riteniamo fortemente quindi che questo disegno di legge, così com'è, non possa essere portato avanti e quindi cercheremo in tutti i modi di impegnare anche il governo regionale e locale, così come hanno fatto altri governatori di centrodestra, a opporsi anche loro a questa riforma. Di posizioni opposte la minoranza. L'autonomia differenziata di fatto non è una legge impositiva che si dice o è così oppure ci sarà il disastro annunciato, non è vero, non è questo. Questa legge di fatto getta le basi e pone proprio delle regole per far sì che una regione, qualessa sia della nazione, possa chiedere di poter gestire in autonomia un determinato servizio essenziale, i cosiddetti LEP, che di fatto oggi in alcune parti d'Italia già è presente e già si fa, però di fatto manca anche un regolamento, quindi questa legge va anche a dare un regolamento. Per poter accedere all'autonomia differenziata ovviamente ogni regione deve fare un'espressa richiesta al Parlamento che a sua volta si fanno delle verifiche non di poco conto.